Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Ghostwire Tokyo Andiamo avanti e vediamo cosa possiamo fare Perché ci sono delle queste secondarie che voglio fare E manca anche questo da trovare Allora questa secondaria Ce n'è una la però Qui c'è qualcosa E siccome dobbiamo anche svuotarci Andrei in quella direzione Perché siamo proprio pieni Nell'ultimo episodio abbiamo ciucciato una roba da panico Proprio insomma si Secondo me a naso era questa la cabina Questa è di colore diverso E infatti E pazienza dai Dai usiamo Scusa se non posso rispondere al telefono Ci sono stati degli imprevisti A proposito ecco un resoconto della situazione Solo io e Dale siamo riusciti a fuggire Da Shibuya come previsto Siamo stati separati dagli altri al parcheggio Nei pressi della strada di Giso All'inizio credevo che Kei fosse morto Ma visto che le anime continuano a essere trasmesse Forse è ancora vivo Passo e chiudo Socevole come sempre vedo Il parcheggio vicino alla strada di Giso Forse è dove aspettavano Ed e Dale Andiamo a controllare Ok posso usarlo come cosa normale Adesso va bene 14.000 Io direi che è una bella esperienza Che ci portiamo a casa Vediamo cosa ci dà Livello Mi sento un po' più forte di prima Meno male perché qui ci voleva proprio Allora Qui c'è Da Un cazzo Era la zona Ma c'è il gattone Ma ci dà altre quest Ok Il gattone mi interessa parecchio Vediamo se qui c'è qualcosa Prima di tutto Sembrerebbe di no Quindi andiamo dal gattone Mi fai salire ragazzi Grazie Vediamo Il nostro bel gattone 40 metri Vediamo se c'è qualcosa Ne dubito Oh si Qualcosina c'è Effettivamente Andiamo a vedere Ah ce ne è parecchio Qualcosina Vai Perfetto Vi faccio vedere dove siamo Comunque l'avete visto E mi fai persi il gattone Comunque sia C'è Che cazzo è sta roba Cosa inquietante Allora andiamo qua Ciucciamo Perfetto Poi c'era anche qualcosa qua Che io Farei così Ciucciata Perfetto Poi vediamo se c'è altro Sì Qua Perfetto Vediamo dove siamo Qua Ciucciata Ciucciata Grazie E adesso andiamo dal gattone Dai Sennò abbiamo perso Già troppo tempo Cioè perso Non abbiamo perso niente Perché abbiamo fatto cose E quindi va sempre bene No Andiamo Gattone Eccolo qua Cosa è quello Quello chi Ci siamo Occupiamoci di loro Per prima cosa Chi No io volevo il gattone Ok Cosa mi dai le richieste Però me ne chiedi parecchie Mi va bene E tu cosa mi dai il negozio A punti di KK 100.000 Però Vai Ok Una porta Vabbè adesso questo qui mi da 20 punti Ok Allora calma Oddio aspettare che fa acquisti Ah Poverino Perfetto Salve La difesa La difesa La difesa La difesa Cazzo Allora Porca vacca Gli ho dati tutti in faccia Gli ho dati E va Quando fa così Ok A qualcuno è caduto qualcosa Eh I miei coglioni Porca vacca C'è la forte Ok Perfetto Prendiamoci Valà un po' di roba Deve andare a caccia di santuario Adesso che abbiamo sbloccato Testa roba Perché Ci servono A fare più Punti Più Heat Ok Adesso Qui c'è altra roba Quanti gatti c'erano lì Vai Ciucciata Grande Ok Perché Perché Tutti stigati Dove sei Mammina Eh Vabbè Che cazzo c'è Che cazzo c'è Bah Non lo so Allora Vediamo un po' Ah sì C'è qualcosa C'è qualcosa Che Sicuramente Non vedo Ma c'è Allora Fatemi vedere Qui cosa dice Per lustra la zona Grazie all'aiuto di un collega Che è rinco La coppia si avvicina Sempre più Al suo Versaglio E questi non sono Non è possibile Che siano i gatti E non ha detto più niente Questo dice sempre La mamma Dov'è Vedi che lì c'è qualcosa È molto inquietante Come cosa Vabbè Adesso Girerò un po' C'è un portale Tori Ah Non posso andarci Ok Calma eh Perché non è difficile Sicuramente qui c'è qualcosa E lo troverò La troverò sicuramente Adesso prendiamo questo Qua non c'è niente Sono abbastanza sicuro Che Ah si E' qui Effettivamente E' qui Eh però Vai eh A volte si blocca Niente Continua a dirmi Che è lì Però Per me deve succedere qualcosa Perché non ha senso Va bene Andiamo avanti Il gatto L'ho fatto Le quest secondarie Ce n'era una qua Io andrei su questa Poi questa qui Capiremo Quando sarà il momento Tanto è sempre così Sto gioco Andiamo a 100 metri Vediamo se c'è altro Effettivamente qualcosa C'è qui Vai Perfetto Ciuccia Ma c'è anche qualcosa qua Vai E poi lassù Allora qui c'è Allora qui c'è Il gatto Ti faccio vedere dov'è E qua Vai Signor gatto Scusi Sa però Allora come Ok Ciucciata Grazie Saranno ancora Da fuori E qua Vai Eh scusate Eh non ce la faccio Ce la posso fare Ok Qua Ciucciata Grande Vediamo cosa c'è Chi c'è Qua Ciucciata Grande E siamo a Qua Ok Io sono soddisfatto Perché abbiamo preso Veramente tanto E fatto tantissimo Però cose particolari Segreti I cose così Non li ho trovati Graffiti Queste cose qui Per il momento No Estenderò appena posso Anche l'abilità Per arrivare più lontano Così almeno E anche meglio Vediamo già Com'è questa abilità No Di qua Scusate E questa No questa è quella Per volare E questa è già È al massimo Quindi così Non posso estenderla Questa non mi interessa L'unica è volare Ma volare Noi vorremmo una in più Beh non è neanche tanto Ce la possiamo che fare Ok Andiamo a vedere Questa che è di qua Di qua 58 metri Vai Per 5 secondi Non mi sembrano 5 Però facciamo finta di sì Ok Eh niente Avvogliato Comunque qui è E noi qui andiamo Perfetto Signore salve Che succede Che succede In questo albero Dimora Uno spirito protettore Un Kodama Oh In recente I mostoi Hanno cercato Di privare Il Kodama Del suo sacro potere Se ci riuscissero L'albero sacro Avvizzerebbe E morirebbe Poi assorbiremo Il potere del Kodama È più sicuro Sì Penso sia l'opzione migliore Cari Kodama Kodamucci Oh Salve Kodamuccio Me lo ricordiamo Salvare il Kodama Sì Rilassati Ok E niente Vai Perfetto Salve Signorina Lei mi ha Sottuto Eccola qui Altri Salve No no Non rompete i maroni Per piacere Signorina Ok Calma eh Perché ce la possiamo fare Io ho solo due Ok Questo è andato Questo è andato E adesso Facciamo questo Dov'è Dov'è La spara cazzi Qui che rompe i maroni Come solito Signora Lei ha rotto proprio i maroni Però Eh Non abbandoniamo il Kodama Eh Non abbandoniamolo Allora Facciamo così Ok Vai Vai Eh E niente Eh Lui purtroppo è tosto Vai Eh Niente Non è stato proprio facile facile Purtroppo Non siamo riusciti a proteggerti Non ce l'ho fatta Ok Purtroppo non ero neanche pieno Allora fate vedere se riesco a È perché È perché non ero pieno Allora Vai qua Vai qua Prendiamo più cose possibili Perché mi devo riempire Assolutamente Eh Qua Qua È perché ero vuoto Cioè Ero proprio messo male Quindi Come ci ha messi 26 Non ancora troppo poco Devo trovare Da rifacillarmi Assolutamente Andiamo qua Vai Perfetto Anche qua Siamo messi Proprio male 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 Arrivo signore Non si agiti Sì lo so Non mi sono messo bene Neanch'io Ok Vediamo un po' qua Perfetto 36 Dai 36 Ce la posso anche provare a fare E ho tre palle rosse Purtroppo di rossi Non mi trovo facilmente Purtroppo Faccio come possiamo Allora Sì sì ho capito Sì Riproviamoci dai Sento abbastanza Propenso a farcela Dobbiamo salvare il Kodama Sì Uno Due Tre Quattro Andiamo in tre Ok vai Ok Vai Dove cazzo è andato Signore È andato giù Sale Dai Vai E prenderlo sto cazzo di duplo Ok Poi No signore Vedi che cazzo Eh lo so Allora Facciamo così Vai Ok 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 Questo Vai Vai Anche questo Ok Adesso è arrivo Rilassati Spara palle Come ha rotto i maroni Inoltre Non riesco a prenderlo Ok Ok E chi l'abbandona Ok Sono arresi Oh cavoli Vedete Perché non avevo Non ero Non ero carico Quindi Signore Diamo Salve Prego Dovremmo prenderne Il potere E andare Vai Perfetto Andata Benissimo Sono felicio Abbiamo il magatama Adesso prendiamo questo Cioè parliamo con lui Volevo dire Penso che il godama Stia meglio con voi Abbiatemi cura Vi prego Perfetto Beh sono contento Dai E' andata bene Alla fine Ce l'abbiamo fatta Volevo vedere Quella questa Quella questa Quella abilità Che era questo Ovviamente alle 5 secondi 3 E 15 Perfetto Adesso siamo a 5 secondi Con quello Quell'altro Quello del Niente male Del Potere Fare i Tengu Siamo veramente A cavallo Vediamo Se abbiamo altre C'è qualcosa qui E vorrei andare a prendere Se me lo permettete Sperando che non sia Quello di prima No Quello di prima Era di qua Secondo me Questa è un'altra cosa Quindi andiamo avanti Vediamo un po' C'è qualcosa qui Ovviamente C'è tanta roba Porca vacca Guardate quanta roba c'è Allora Fin di tutto Andiamo qua Ciucciata Facciamo vedere Dove siamo Siamo qua E poi Andiamo qua E' una bella Ciucciata anche qua Ciucciata Perfetto Poi vediamo un po' C'è un'altra roba C'è un'altra roba No Stiamo attenti RHP E' un bel casino E vai Assorbi Assorbiti tutti Grazie Ci rischio Ok Ok Adesso Ci penso io Ok Vai Vai Muori Signore Lei deve morire Niente di personale Però Ok Fatto Ok Data Andata Diciamo E abbiamo liberato anche la zona Beh non è andata male male Diciamoci la verità Allora E qui c'è altra gente ancora Mamma mia Quanta roba c'è Allora dove siamo C'è qui Ah ci sono i bidoni Prendi Prendi Siamo qua Volevo prendere Assolutamente Anche questa zona Qui Che c'è Oh Non l'avevo visto Vai qui Grazie perché ci serve E qui c'è Altro Non volevo che ci fossero Sorpresine Effettivamente c'era sorpreso Però può darsi che La possiamo mettere Dietro Ecco qua Ok Vai Suciata Grande Così mi sei piaccionato E adesso Molto meglio Molto meglio Eccoci qua Ciucciata Cavoli ma qui non finiamo mai Di ciucciare però Nel senso Perché ce ne sono veramente troppi Allora Qua Facciamo così Qua Facciamo così Qua Facciamo Ci so che stanno facendo un portale Però cavolo È impossibile starci dietro a tutti Tanto facciamo questo Piucciate varie E siamo a posto Poi Oh cazzo Sono caduto Questi micioni E andiamo Verso la quest Dai Così a meno A meno Mi aveva fatto un po' di cose Sono contento Sì Tanto queste si fanno bene Dai Sono cose che si fanno abbastanza bene Allè 100 103 di qua Ok Perfetto Dove cazzo è? Di qua Ok 95 Allora aspettate Ok Grazie Vai Ah si vola proprio tanto di più Ormai sai planare come un uccello Eh Sì direi che me la capo Oh salve Piacevole sorpresa Adesso C'è non si finisce più di ciucciare sto gioco C'è non ciucciata continua Signor Ciccione Eccolo qua Vai Ok Così 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 E così E vai Tac Ciucciata Ciucciata Grazie Non è che qui c'è qualcosa Mamma mia ma qui è una ciucciata C'è a parte la ciucciata Ma proprio Questa mi sa tanto di questa Ma dove ci porterà tutto questo? Oh Questa sì che è una cosa buona Io sento rumori Santuario? Ci deve essere un santuario Quando sento questi rumori è quasi sempre un santuario Vabbè comunque devo finire di fare Oh Ok Questo Vediamo dove va Eccolo 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 Sì Deve essere un Itanmo Ma l'acca adesso ti posso seguire Non sta badando a noi Proviamo ad avvicinarci Certo Vai continua Aspettiamo che si fermi Sì sì Io aspetto Non mica problemi Adesso che posso planare Dovunque Vediamo un po' Vai Perfetto Andata Andiamo dove siamo Qua Sei stato bravo Grazie Adesso qui siamo al posto Dove Dove Dovevo trovare questa cosa Cos'è una patatina Questa sì Però io non la vedo Quindi mi sa proprio che è di sotto Mi sa proprio di sì Però intanto Qua Prendiamo Cicciamo Tutta randa Vai rimuovi Ok Così 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 E così Vai Una bella succhiata Siamo a posto Ok Vai Succhia Non pensavo fossero così tanti Eh in effetti sono proprio tanti Ok vediamo un po' adesso se Riesco a capirci qualcosa Vorrei capire Come fare A fare A fare A questo A trovare Sto coso Vediamo un po' se da qui Riesciamo a vedere qualcosa Effettivamente Mi dice Che dobbiamo andare Tipo qua Eh no Tipo qua Ok Più giù C'è modo di scendere Qui se c'è modo di salire C'è modo di scendere Vediamo un po' se è vero Qui si sale ancora E qui c'è Modo di scendere Sì Ok C'è modo di scendere Secondo me Siamo nella giusta direzione Fatemi vedere Per me Per me Oh ma c'è roba Ho visto che ce la prendi Ok Prendi qua Grazie Entri un attimo qua Perché io sono Incomincio ad essere Abbastanza Superato la mezza Mi sa Andiamo 5.000 Non è male Sì Non è mai 14.000 Per un po' Però Sempre si viene Oh C'è una chiamata Qui parla Ed Grazie alle tue Trasmissioni La situazione È migliorata Notevolmente Sei impeccabile Continua così Grazie E ci stiamo arrivando Rilassati Ok Vediamo Cosa dice qua Ok Interessante Ciuccia Grazie Sembra un caro È vicino Non ho Oh Vai Ok Diciamo che era Qualcosa Prendi Prendi Ma che cos'è Oh Sì Una piesta dorata Quella lì che cercavamo Perfetto Vi faccio vedere dov'è Comunque era Dove avevamo detto Qua Ok Questo non c'è più bisogno Poi Cos'altro dobbiamo fare Quest Allora Queste cose Qualcuno le vorrà No? Ok Andiamo a vedere A chi darle E vediamo cosa ci rispondono Vai Perfetto Non è tanto Lo so Però questa è l'ultima richiesta Che mi manca Quindi Non mi dispiace E' bella fatta Vediamo un po' Gattone 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 Qua Qui ce n'è una E Vediamo se ce ne sono altri gattoni Due gattoni Che hanno la richiesta Perfetto Andiamo qua E vediamo cosa ci dice Salve Che è un gattone Perfetto Questo abbiamo esaurito Ottene i borici Ok L'abbiamo preso anche qui Lui non ci parlerà mai più A meno che non ci dia qualcosa di nuovo Ma E Questo Ne ho già presi Reazione Tessitura Fuoco Utilizzabile Molta foto No Interessa Oddio Quando avremo tanti tanti soldi Potrei anche provare a farlo Non è che mi dispiacerebbe Però Per adesso Andiamo a vedere L'altro gattone Vai Vai Perfetto Qui cosa manca Zero Ha punti di KK Ho pochissimi soldi Però ci ha dato Altri soldi Altri punti 43 mila Quindi siamo a 69 Mi va bene lo stesso Ne ho usati parecchi Però Sono tutti punti che Adesso Noi abbiamo I punti abilità Abbiamo da spendere tanto Possiamo comprare tanta roba Che non mi dispiace affatto Questo cosa fa Perché queste sono quelle cose lì Che Non carico mai Ti vedete di sferare due colpi Questo è interessante Vedete Sono cose interessanti Avete 5 il raggio E questo è interessante Costa poco Gli attacchi di distruttura a fuoco Infliggono danno il nemico Vai È interessante Questo cosa fa Perché di distruttura a fuoco Infliggono più Nemici Infliggono più nemici insieme Eh Anche questa è buona Però adesso le faremo Dai piano piano C'è il tempo necessario Per dare fuoco Per dare fuoco Oh interessante Questo cosa fa Carica elementare di vento Ah vabbè Queste sono quelle là Va bene Io direi che Ci possiamo anche fermare qui Abbiamo fatto veramente tanto E sono veramente felice Quindi come al solito Vi invito Allora Ci piaccia A farmi sapere cosa Pensate Per la sfida Assoluta Assima Ciao ciao